Rifiuti e consorsi, la stretta finale inizia da San Marzano sul Sarno, il tour del commissario del consorzio di Bacino Salerno 1, Fabio Siani, per verificare l'avvio dell'iter destinato al passaggio di cantiere questa mattina all'incontro con il sindaco Cosimo annunziata. È anche il momento per fare il punto della situazione sull'indebitamento dei comuni rispetto all'ente consortile. Ripartiamo dalla legge regionale che di qui a poco dovrebbe essere approvata dal Consiglio della Regione Campania e aspettiamo la definizione di quelli che sono argomenti già trattati nello scorso mese di gennaio. A luglio dovrebbero essere attivi i passaggi dei cantiere in favore dei comuni, dovrebbe essere costituita un ato provinciale che comprende 158 comuni che però avrebbe essenzialmente funzioni di coordinamento e di controllo. E poi viene devoluta ai comuni la gestione dell'intero ciclo, per cui noi stiamo lavorando già da adesso con il sindaco di San Marzano, con Cosimo annunziata, appunto per incominciare a pianificare il passaggio di cantiere. Perché i dipendenti oggi in forza al cantiere di San Marzano dovranno essere trasferiti al comune di San Marzano che potrà poi decidere di approntare una gara e quindi affidare il servizio ad un privato, ovvero di gestirlo in house. I soldi che i comuni debbono al consorzio e la riscossione dei crediti a che punto è? Questo è un punto dolente, fortunatamente ci sono dei comuni e tra questi cito il comune di San Marzano che ci garantisce praticamente di poter effettuare il servizio e quindi la sopravvivenza. Ci garantiscono la sopravvivenza versando il corrente, per quanto riguarda il pregresso devo dire che è una situazione disastrosa, nessun comune affronta il problema, tant'è che io sono stato costretto a fare decreti ingiuntivi quasi a tutti e decreti ingiuntivi per lo più resi già esecutivi, per cui siamo già alla fase dei pignoramenti. È una situazione che poi cadrà in quella che sarà poi la gestione liquidatoria in senso stretto, per cui da luglio pensiamo di dover far affrontare il problema del corrente non più al consorzio ma ai comuni e quindi il consorzio curerà solo la fase della liquidazione. Un'ultima domanda, Pagani ha aumentato di 90.000 euro almeno l'ultimo mese il pagamento richiedendo servizi ulteriori che pare non siano stati effettuati. Ci dovrebbe essere un incontro ad Oras con i commissari per chiarire questa situazione? Pagani fortunatamente sta mantenendo fede agli impegni. Rispetto ai 160.000 euro che ci hanno garantito per circa un anno, oggi si sono attestati su un importo di 250.000 euro che ci consente di fare un servizio con maggiore serenità e soprattutto con maggiore tranquillità. Tanto è vero che, devo dire, nell'ultimo mese e mezzo non abbiamo più affrontato crisi sul territorio di Pagani, proprio grazie al Comune di Pagani che ci sta dando la possibilità di pagare gli stipendi e di manutenere in maniera più o meno decorosa i mezzi del consorzio.